sono ben arrivato però mi ha fatto capire subito la l'importanza del del derby dato la vicinanza geografica delle due squadre molto sentito e devo dire sì che all'inizio si è sentito eravamo un po tesi però dopo un po siamo riusciti a scioglierci e il gioco è stato più fluido e siamo riusciti insomma a concludere con maggiore efficacia c'è stato un passaggio a vuoto a fine un primo tempo che c'è un attimo condizionato però per il resto abbiamo giocato direi una partita precisa e siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco che è quello che dobbiamo fare ecco che ci chiede l'allenatore devo dire che il campionato sta andando abbastanza bene abbiamo avuto dei passaggi a vuoto che dobbiamo cercare di risollevare nel giro di ritorno però stiamo cercando di raggiungere il nostro obiettivo che in questo momento è il secondo posto. Tenete il passo di Siracusa e di Conversano, Fasano forse un po' lontana per tutti, c'è ancora Città Sant'Angelo in corsa per le prime quattro posizioni è una corsa apertissima nel vostro girone? Sì devo dire che queste squadre che hai nominato sono sono molto alla pari quindi ogni partita con loro è difficile perché davvero si rischia di perdere punti come è successo a noi e rigori a Città Sant'Angelo per cui ecco niente noi ci proveremo adesso abbiamo una partita molto importante sabato prossimo a Conversano cioè scusi scusa in casa col Conversano e dobbiamo cercare di risollevare la brutta sconfitta che abbiamo patito all'andata da loro e quindi sì ce la metteremo tutta in questo senso. È mancata un po' quella grinta in più che ci doveva far vincere la partita anche perché il derby come sappiamo la partita a sé quindi non importa chi è più forte sulla carta ma porta metterci la grinta il cuore noi della Luporocco Gaeta ce l'abbiamo messa tutta anche se il risultato non è veritiero però dai siamo siamo speranzosi. Ci sono stati parecchi cambiamenti quest'anno è stata diciamo è un'annata abbastanza positiva con l'arrivo appunto del nostro straniero Milos Filiz. Cerchiamo di riuscire a portare più punti a Gaeta è quello che speriamo.